Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, oggi per discutere insieme e guardare ovviamente la run della Sheenra Building in Very Hard. Dungeon che è stato aggiunto da relativamente poco tempo, non ho avuto tantissimo tempo per poterlo affrontare, però adesso che sono stato un po' più libero, dopo tutti diciamo un po' le peripezie che mi sono successe in questi giorni, ho potuto comunque registrare la run e ora ovviamente vi darò consigli e ovviamente vi farò vedere quello che sono riuscito a fare io. Ovviamente essendo comunque un dungeon non di ranking è possibile utilizzare più oggetti ed evitare comunque di non perdere il proprio score, quindi non abbiate paura nell'utilizzare oggetti, non abbiate paura nel curarvi perché tanto il punteggio è senza ombre di dubbio raggiungibile anche con l'abuso o comunque con l'utilizzo massiccio di tanti oggetti. Partiamo subito col vedere quali sono le nostre trans abilities, quali sono i livelli dei nostri avversari, i sigilli e tutto ciò che ci serve sapere dei nostri avversari. Partiamo con una difesa app che praticamente dura più 30 secondi qualora noi dovessimo in un modo o nell'altro potenziare la difesa fisica che in realtà è molto utile soprattutto con i nemici finali di questo dungeon, ovvero l'esperimento del laboratorio e Rufus che poi sarà il boss finale e il poison resist che se non fate attenzione è veramente veramente infame. Il poison potrebbe letteralmente distruggere la run già al primo boss, quindi fate molta attenzione, portatevi comunque degli healing per quanto riguarda il poison ma adesso quando vi farò vedere il team vi dirò anche il perché ho un determinato setup. Per quanto riguarda invece i nemici, questi sono tutti i nemici che affronterete all'interno del dungeon con ovviamente i corrispettivi sigilli che giustamente dovrete utilizzare, quindi sigillo triangolare che Cloud con Murasame vi permette di avere comunque un vantaggio estremamente importante Rufus e le Queen Grash Strike che possono essere completamente annientate da Sephiroth con ovviamente la Wing Edge per chi la possiede e la combinazione di sigillo triangolo e X appunto permettono a Cloud e Sephiroth di essere praticamente compagnetti d'avventura in questo dungeon l'assolto Scorpion con debolezza fuoco è quello che effettivamente mi ha fatto perdere più tempo proprio perché non avevo personaggi di tipo fuoco o comunque non avevo la possibilità di fare danno fuoco quindi ho perso un po' più di tempo mentre invece comunque gli altri deboli al ghiaccio e al tuono con Cloud e Sephiroth sono riuscito tranquillamente a buttarli giù il vostro score deve arrivare a più di 720.000 e io comunque avendo utilizzato tanti oggetti sono arrivato a 802.000 quindi l'importante in questi dungeon è essere veloci le summon se le avete farmate qui vi aiuteranno tantissimo soprattutto contro le Queen Grash Strike se riuscite ad ottenere Shiva Full e praticamente scaricarla a inizio battaglia praticamente shottate tutti e avete praticamente già completato una wave senza fare niente stessa identica cosa sulle tre Death Machine dove avere Ramu in questo caso vi permetterà in un modo o nell'altro di fare veramente pulizia con una velocità inaudita che è quello che ho fatto io e che vi farò vedere io infatti ho accumulato le summon qui nell'assolto Scorpion proprio perché questo è il nemico che in questa run per me è più difficile o comunque più lento da buttare giù quindi primo clear con S più 720.000 come punteggio tranquillamente fattibili se ovviamente avete il setup giusto e poi successivamente questa è la mappa dove appunto avremo la possibilità di trovare forzieri, nemici e tutto quello che ci interessa però fondamentalmente cosa dobbiamo attenzionare? dobbiamo attenzionare il fatto che bisogna fare attenzione al Poison perché praticamente vedete loro utilizzano praticamente anzi più che altro il Custom Sweeper utilizza tanti attacchi fisici che infliggono Poison quindi fate molta attenzione a lui gli altri due sono dei merdoni quindi non c'è assolutamente problema ma lui con il Poison potrebbe effettivamente darvi fastidio l'assolto Scorpion invece fate attenzione che io questa cosa in realtà l'ho dimenticata e stavo per pagarne pegno ovvero la possibilità che il boss possa accumulare tanti stack o comunque tanti livelli di attacco magico quindi cercate di ridurglieli se possibile proprio per evitare di essere shottati o di prendere troppi danni resistenza ghiaccio che da un lato diciamo condanna Sephiroth a giocare un po' più passivamente però diciamo non essendo un boss troppo forte si riesce comunque a buttare giù le Queen, Grash Strike invece potete shottarle praticamente subito fate attenzione anche a loro perché anche loro infliggono Poison è Fatiga, Fatigue, quindi Fatica non so se vi conviene portare una cura per Poison e una cura per Fatigue io vi consiglio sicuramente una cura per Poison Fatigue, se riuscite a giocare bene non avrete nessun problema l'esperimento H0512 che anche in questo caso infligge Poison quindi come potete notare il Poison è una costante in questo dungeon ma sconfiggendo un determinato boss che sarebbero le 3 Death Machine potrete addirittura ottenere un'immunità al 90% del Poison quindi se proprio non riuscite effettivamente ad avere comunque healing o tutto quello che vi serve avete comunque una buona possibilità di immunità e poi alla fine invece Darkstar e Rufus che sono praticamente i boss finali Darkstar viene completamente obliterato se avete Sephiroth o comunque una summon di Shiva a pieno regime mentre invece Rufus bisogna fare un po' attenzione quando abbassa la difesa fisica perché rischia di shottarvi infatti io essendo troppo sicuro in questo dungeon l'ho fatto tutto in auto ma avrei potuto evitare perché ho praticamente perso Poiris alla fine con Rufus proprio per la questione dell'auto però diciamo che in fin dei conti l'importante è riuscire a portarsela a casa quindi direi che ci sta ora detto ciò questi sono i nostri avversari e quello che ovviamente vi interessa sapere vi faccio vedere il team con cui sono andato che è praticamente questo in cui abbiamo Sephiroth principalmente DPS di tipo ghiaccio Eris curatrice Cloud DPS di tipo tuono barra neutrale anche se in realtà il tuono qui ci aiuta tantissimo summon di shiva per uno ramù per l'altro stavo dicendo Eris comunque sia rimane ovviamente la healer perché giustamente rimane la healer ho fatto un setup prontamente anzi prettamente scusatemi indicato per curare mentre invece gli altri ovviamente fanno danno come notate Sephiroth ed Eris possiedono le materia di healing poison perché sono quelle che effettivamente vi consiglio comunque di tenere Cloud invece non tiene niente perché alla fine va bene così io penso che il poison sia più pericoloso della fatigue anche perché la fatigue dopo un po' si leva bene o male si riesce a gestire il poison vi può letteralmente distruggere la run subito quindi il mio consiglio è questo detto ciò non c'è altro da dire vi lascio la run e ci vediamo la prossima volta allora cominciamo il mio giro è stato ovviamente un giro non classico però iniziamo con l'aprire la porta ovviamente bisogna aprire la porta dopodiché sono sceso e non sono andato subito dai diciamo dai tre dal trio medusa ma sono andato dal guard scorpion quello di cui vi stavo parlando che ovviamente per me con il setup che ho risulta essere un po' più ostico un po' più ostico perché non avevo elemento fuoco per aiutarmi in questo combattimento che non è stato una cosa negativa al 100% perché mi ha permesso praticamente questo scontro di poter caricare più facilmente le summon ovviamente come vi stavo dicendo prima notate che il boss si è caricato tantissimo l'attacco magico io purtroppo non sono riuscito a ridurre questo attacco magico e come notate ho preso una bella sventola che mi ha praticamente ridotto gli hp del 30% direttamente come massimali e mi ha portato in fin di vita quindi qui è stato un po' un po' particolare qui faccio una healing wind perché devo pararmi devo necessariamente pararmi quindi vado giù a curarmi per il resto fortunatamente il nemico adesso incomincia a subire più danni qui viene ribreccato nuovamente perché con i sigilli triangolari e la sinergia di cloud riesco a gestirmela molto 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 bene per quanto riguarda i break quindi primo boss buttato giù ho perso un po' di tempo effettivamente questo è l'unico boss che mi ha fatto perdere un po' di tempo all'interno di questo dungeon successivamente torno indietro qui vado a potenziare ero indeciso effettivamente però ho detto perché no mi prendo le healing in modo tale che così anche se dovessi subire qualche attacco in particolare posso comunque ritornare subito in diciamo in salute e quindi poter gestire meglio il combattimento a questo punto torniamo indietro a recuperare tutti i forzieri e qui affrontiamo il trio medusa trio medusa con le death machine che sono deboli al tuono vi ricordo quindi appena comincia subito la battaglia subito judgment bolt mi conservo diamond dust non utilizzo diamond dust e come potete notare già i primi due vengono completamente sciolti mentre invece l'altro vedete spruzza praticamente il poison noi ci curiamo subito evitiamo praticamente di farci ammazzare dal poison poi attacco fisico anche in questo caso stomp un po' infame questo decisamente un po' infame e qui andiamo fase di break che sinceramente non mi dà grossi problemi il break mi dà problemi un po' l'auto perché ha deciso di curarsi prima ancora di breccare l'avversario e questa è una cosa che delle volte succede purtroppo perché delle volte purtroppo succede qui metto l'hiding breach per fare più danni possibili e poi concludiamo abbastanza velocemente questo tipo di scontro questo è uno scontro abbastanza fastidioso con il poison se non avete la cura del poison vi posso assicurare essere un po' infame vi posso assicurare essere un po' infame come in generale come come combattimento qui aumento l'ice potency perché sepilot è la mia punta di diamante e anche perché i prossimi nemici sono per l'appunto deboli al ghiaccio infatti come potete vedere ci sono i tre i tre crash strike la come si chiamano che sono deboli comunque al ghiaccio quindi io qui faccio un healing wind più diamond dust per avere un po' di boost per quanto riguarda il danno anche se le cure ovviamente erano già al massimo essendo che avevo gli hp già parecchio ridotti e come notate praticamente i due laterali vengono letteralmente sciottati e poi successivamente l'altro l'altro avversario viene viene finito con i blizzara blow di cloud che mi permettono di liquidare in netta scioltezza quest'altro boss questi due boss che abbiamo affrontato e non dico sciottati ma quasi mi hanno fatto recuperare tutto il tempo perso dallo scorpion di prima qui aumento difesa magica e difesa fisica perché appunto avevo pochi hp e volevo risparmiare qualche oggetto poi ho detto ma alla fine non siamo in un ranking dungeon quindi perché devo risparmiare oggetti utilizziamoli e via qui abbiamo l'attacco cioè scusatemi l'incontro l'incontro casuale che poi non è casuale ma viene triggerato appunto dentro quell'area di gioco dentro la stanzetta o comunque nel corridoio così come verrà triggerato anche l'altro incontro che giustamente si attiva in determinate zone della mappa ero convinto inizialmente che gli incontri casuali fossero effettivamente incontri casuali e che quindi tu ne potessi incontrare tanti di fila invece poi ho scoperto che sono incontri casuali però sono degli incontri casuali fixed cioè nel senso sono già preimpostati su dove devono essere triggerati e quindi va bene così qua utilizzo un po' di ricostituenti giusto per avere un po' di limite HP in più perché ero appunto messo non dico troppo bene quindi ho detto evitiamo non rischiamo e qui come potete notare si triggera l'altro incontro casuale che appunto ha un trigger specifico nelle zone qui ovviamente non volevo combattere non volevo rischiare troppo quindi ho fatto la summon sperando di poterli shottare invece non li ho shottati anche perché come notate la mia la mia run in auto giustamente mi ha messo in stanza difensiva quindi mettendo in stanza difensiva ho fatto molti meno danni e questa cosa mi ha punito perché appunto mi ha fatto rallentare un pochettino fortuna che questi nemici non vengono considerati per il punteggio perché vi ricordo che tutti i nemici casuali non sono conteggiati per il punteggio quindi potete tranquillamente perdere tutto il tempo che volete o accumulare anche la summon all'interno di questi combattimenti perché potete tranquillamente farlo è una strategia molto utile soprattutto nei ranking dungeon qui altro altra chest e passiamo alla seconda alla seconda area seconda area un po' più sgombra fondamentalmente perché non c'è quasi nulla da raccogliere incontro casuale anche in questo caso che in realtà potremmo anche potremmo anche schippare potremmo anche schippare quindi andiamo leggermente più avanti perché questi alla fine sono tutti incontri che non ci interessano ecco qua una volta tolti gli incontri casuali andiamo a prendere le gemme che ci sono nell'angolo in alto a sinistra una zona un po' difficile da raggiungere solo cliccando con il mouse quindi mi direziono con i tasti e via andiamo ad affrontare il penultimo boss della run ovvero l'esperimento h0512 però in questo caso prima per evitare diciamo complicazioni valuto che cosa fare e riutilizzo altri supplement giusto per riavere un margine di cura che posso sfruttare per il boss questo è un boss che giustamente non è diciamo non è debole né ghiaccio e anzi è resistente a fulmine cosa che io mi ero completamente dimenticato infatti vado quasi subito a partire cioè vado quasi subito partendo con la summon poi mi fermo un attimo perché non mi ricordo se effettivamente era debole al ghiaccio al fuoco o a qualcos'altro proprio non mi ricordo nulla cioè non mi ricordavo appunto questo boss come fosse strutturato quindi aspetto che mi attacchi qui ho rischiato un po' perché ho subito parecchio danno quindi qui decido di andare di summon più healing wind tutto in fase offensiva tanto riesco a curarmi grazie al 30% di cura in più e qui noto che effettivamente il boss era resistente al tuono quindi dico aia ecco effettivamente cose che non ricordavo ovvero la resistenza al tuono qui abbiamo il doppio sigillo per essere diciamo il boss breccato io però ovviamente non ho pazienza con questi minion quindi lì sciotto con Shiva e poi successivamente vado a breccare l'avversario e quindi riusciamo poi successivamente a gestirlo anche perché appunto essendo breccato e avendo comunque la possibilità di poter fare molto più danno in un'unica sequenza abbiamo praticamente sciolto il nostro avversario poi se è filotto comunque sia con boost di potenziamento ghiaccio arma maxata e tutto mi ha semplificato non poco la vita a questo punto sconfitto anche il boss ormai ci resta soltanto il nemico finale quindi anche in questo caso controllo un pochettino la situazione e quindi ovviamente scelgo ice potencies di un altro 15% ormai il fuoco non mi serve più gli altri elementi sono completamente useless rufus o per meglio dire dark star è debole al ghiaccio quindi andiamo dritti verso il boss dritti verso il boss che vado ad affrontare veramente a testa alta con un blizzard cocktail e una tenda giusto per arrivare al pieno delle mie energie sapendo comunque di poterlo fare perché lo score non avrebbe subito nessun cambiamento e quindi affrontiamo il boss finale boss finale che probabilmente è anche più semplice rispetto a tutti quanti gli altri boss fondamentalmente che ci sono stati all'interno di sto dungeon perché come potete notare praticamente dark star viene completamente disintegrato subito da sephiloth rufus non può buffarsi quindi fa un attacco molto più scarso e qui ovviamente andiamo tutto in discesa andiamo tutto in discesa io subisco fatigue purtroppo ma non è un non è un grosso problema qui prendo la botta qui brecchiamo subito qui facciamo subito le summon andiamo proprio aggressivi fin dall'inizio proprio perché cerco di togliermelo il prima possibile rufus alla fine so che non ha né debolezze né resistenze elementali quindi posso fare qualsiasi summon che mi venga in mente e poi invece switcho su sephiloth perché come potete notare sephiloth ogni botta sono praticamente 15k di danno che gli riesco a fare tranquillamente quindi sono a posto qui potrebbe essere pericoloso se non avete i sigilli triangolari io invece qui fortunatamente riesco a breccare subito rufus qui vedete già l'auto mi sta un pochettino mettendo i bastoni tra le ruote perché subentrano comunque delle cure che in quel momento magari non mi interessano subentrano dei buff che in quel momento non mi interessano quindi mi fanno rallentare vedete mi rallentano praticamente il gameplay mi rallentano il gameplay dove io comunque ero già proiettato verso praticamente gli attacchi finali e qui purtroppo come potete notare essendo stato comunque rallentato dal proprio dal mio auto ho dovuto necessariamente sacrificare Eris in questo caso perché Eris mi è morta tolgo l'auto perché qui l'auto mi ha fatto più danno che altro e poi infine vado a chiudere il dungeon proprio perché ormai rufus era già con il culo per terra dungeon che in realtà può essere fastidioso per colpa del poison però con le giuste cure per il poison e ovviamente un team impostato come giusto che sia non ci sono grosse difficoltà le summon qui aiutano veramente veramente tanto quindi questa era la mia run sul dungeon shira building very hard in S plus e io direi che con questo video abbiamo finito bye bye